Bene, trattandosi di musica leggera che abbia da un certo punto di vista a che fare con l'opera c'è un pezzo che bisogna farla. La storia che sta dietro alla composizione di questo pezzo è molto interessante. Questo è un pezzo di Lucio Dalla che raccontò di avere composto questo brano in una camera d'albergo. Era rimasto bloccato con la nave, con la sua barca, si trovava nel Golfo di Sorrento e si fermò in questo hotel. Era l'hotel dove di solito soggiornava il grande tenore Enrico Caruso e lui chiese di poter dormire, passare la notte nell'attesa della riparazione della sua barca, proprio nella stanza d'albergo che veniva di solito occupata da Enrico Caruso. La leggenda vuole, lui raccontava, che abbia composto il testo e la canzone in circa mezz'ora. Ora, non stiamo a guardare il minuto, questo non credo che sia un dettaglio importante. Però è un pezzo che veramente ha fatto il giro del mondo e penso che la notorietà che ha assunto negli anni sia tutta meritata. Con questo pezzo vi salutiamo. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti